Giacomo Batovino Sì, grazie mille, sono soddisfatto, è uno dei grandi tornei, il primo che faccio, è una buona vincita, è un buon piazzamento, ovviamente un po' di rammarico per il colpo, comunque partivo era 70-30 per me, però non fa niente, sono già stato fortunato. Raccontacelo, raccontacelo. Apre costa per due, 60.000, io circa 320.000, quindi 10 bui, pusho 6-6 e lui chiama con asso 3 a picche, asso subito al flop, anche un altro a saltarne che non cambiava la situazione e niente, river bianco e niente, settimo posto. Settimo posto, comunque partivi short, molto short a questo final table, già non esser stato il primo player out credo sia stata una bella soddisfazione. Sì, sì, è stata una bella soddisfazione anche perché avevo visto abbastanza buone carte, pusciato parecchie volte, non ero mai stato chiamato e c'è stato lo scoppio degli assi del giocatore uscito in ottava posizione contro i jack del chip leader e quindi anche un buon guadagno di una posizione anche in termini di euro, di soldi. Bene, ti facciamo i complimenti e siamo particolarmente soddisfatti perché insomma sei arrivato qui con i Sat Pocket Room e speriamo di rivederti anche alle prossime tappe del 2013. Certo, certo, riproverò sicuramente questi satelliti perché è un'ottima opportunità per partire con pochi soldi per arrivare fin qui. A chi dedichi questo risultato? Lo dedico a tutti i miei amici che mi hanno guardato, mi hanno scritto messaggi, mi hanno incitato, anche i miei due amici che mi hanno seguito fin qua e basta così. Complimenti, grazie. Grazie mille. Grazie a tutti.